Innanzitutto diciamo che per mettere al sicuro un'azienda oggi non è sufficiente installare uno o più prodotti di sicurezza, ma bisogna innanzitutto impostare un processo di lavoro. La sicurezza deve partire dalle persone, dai comportamenti, dall'approccio al lavoro e quindi da una vera e propria cultura della sicurezza. In secondo luogo bisogna far sì che esista un modello organizzativo aziendale che definisca il flusso del lavoro stesso per permettere al responsabile IT di avere evidenza, visibilità di dove sono i dati, da dove arrivano, dove vanno, come si muovono per poterli leggere, interpretare e definire le giuste strategie di protezione e anche di prevenzione in modo che gli eventi di sicurezza possano essere previsti prima ancora che essi si manifestino. La sicurezza quindi richiede un approccio integrato di proattività e prevenzione, due aspetti imprescindibili per avere appunto un concetto reale di sicurezza oggi. In questo contesto Trend Micro ha un ruolo cruciale per la sua strategia che è basata su una piattaforma tecnologica unificata di cyber security in continua evoluzione che permette appunto di tracciare il dato ovunque si trovi, di dargli un valore in termini di sicurezza e di poter impostare quindi le migliori strategie di prevenzione e di contenimento, anche utilizzando il valore aggiunto dell'intelligenza artificiale generativa. Con 16 centri di ricerca sulle minacce globali e centinaia di esperti di sicurezza e data scientist riusciamo a raccogliere costantemente le informazioni e utilizzarle al meglio. Quello che ci rende unici è anche la passione delle persone di Trend Micro nel rendere il mondo un posto migliore e più sicuro. Come dicevo la sicurezza oggi è un connubio di processi e modelli organizzativi e quindi questo non si può realizzare senza delle collaborazioni di qualità. In questo contesto Computer Gross rappresenta una partnership di valore per Trend Micro perché ci dà la possibilità di estendere la nostra rete collaborativa con partner e sistema integrator di offrire percorsi di formazione qualificati in cyber security e servizi a valore per i clienti. Il tema della sicurezza oggi è talmente centrale che non può essere giocato con un ruolo da solisti ma deve essere orchestrato con i migliori esperti e professionisti del settore. in questo senz'altro Computer Gross è uno dei nostri alleati.